Filippo Bagni e Piero Bruni morirono per asfissia da gas Argon. Questo, quanto stabilito dall'autopsia effettuata tre mesi fa, i cui risultati sono stati resi noti adesso sui corpi dei due dipendenti che morirono lo scorso 20 settembre in uno scantinato dell'archivio di Stato, soffocati dal gas che li uccise praticamente sul colpo dal momento che l'ambiente era saturo. Dopo la perizia scientifica, ora l'attesa è per quella tecnica che è ancora in corso. I periti, infatti, hanno effettuato un sopralluogo alcune settimane fa presso l'archivio da capire come fu possibile la fuoriuscita di gas dall'impianto antincendio e cosa la determinò. Al lavoro, gli ingegneri Luca Marmo, Antonio Turco e Luca Fiorentino, incaricati dalla procura di Arezzo di svolgere le delicate verifiche per fare così chiarezza sul tragico episodio. Per l'incidente che costò la vita ai due dipendenti sono indagate 14 persone, tra queste anche il direttore dell'archivio di Stato. Grazie. Grazie.